Quante volte vi capita di essere tedeschi? E quante volte, essendo tedeschi, avete bisogno dello spagnolo? Da oggi arriva il corso di spagnolo in tedesco. Scopri quanto è facile imparare lo spagnolo partendo dal tedesco. Cosa vuol dire? Hogar vuol dire? Buon house vuol dire casa. Grazie al passaggio attraverso un'altra lingua, il tuo ricordo sarà più potente. Ah, allora Hogar vuol dire casa. Corso di spagnolo in tedesco in DVD. E con la prima uscita i consigli di Juan Carlos Schweinsteiger. Edizioni del Bradipo.